Ciao ragazzi, parte oggi ufficialmente la mia carriera su FIFA 20 mi raccomando, sostenetela con tanti like perché ho intenzione di caricare due episodi a settimana nello specifico il mercoledì e il venerdì quindi mi raccomando, dagli dei like per sostenermi Premetto che non ho ancora mai fatto una partita su FIFA 20 quindi devo un po' valutare determinate cose chi mi conosce sa che non sono un fenomeno, anzi, tutt'altro però riesco, nonostante ciò, a regalare delle forti emozioni qui ragazzi non so se di solito gli altri attivano o disattivano io attivo tutto ragazzi, dai allora io scelgo questo col cravattino ragazzi essendo un sex symbol, è ovvio, che devo curare anche di più l'immagine che palle, io odio perdere tempo a metterlo a mio cognome in questo momento sto invidiando chi si chiama Arrigo Cristofori che non c'ha bisogno di modificare nulla Daniele Brogni, Italia, si può anche personalizzare tutto qui ragazzi comunque scegliamo ovviamente il Milan partite qui boh, non so se mettere leggenda o campione ragazzi lo scorso anno con leggenda mi sono trovato abbastanza male però non avendo mai giocato a FIFA 20 non so se adesso leggenda l'hanno resa ancora più forte come prima magari partiamo da leggenda e poi vediamo come vanno le cose qua direi 5 minuti, euro competizione europea, attivo, disattivo, per me che sono milanista è uguale ok comunque ragazzi per quanto riguarda la scelta della squadra ammetto che quest'anno non volevo prendere il Milan perché l'ho già preso lo scorso anno quindi non volevo fare una cosa simile il problema qual è? Che mi è scattato l'orgoglio dopo queste prime giornate di campionato nella vita reale dove il Milan ha fatto schifo e quindi ho detto no devo intervenire in qualche modo anche solo su FIFA per dare un po' di dignità a questa società ma dubito che lo farò ok ragazzi per adesso mi sembra abbastanza simile come schermata sì vedo il morale delle rose che forse prima non c'era piccoli dettagli diversi però più o meno è come i FIFA 19 per adesso allora io la prima cosa che farò ragazzi è andare andare nella mia rosa e fare la strage sapete che io amo fare le stragi e inizierò a mettere tutti sul mercato Donnarumma confermato Pizzaria è in prestito ma io lo richiamerei perché sarà il mio terzo portiere Antonio Donnarumma lista trasferimenti Reina è il mio secondo e lo lascio anche se forse ha un ingaggio importante sapete che forse io addirittura lo metto in lista trasferimenti ragazzi ho deciso così è stata un po' improvvisata ma mi sono fatto un po' condizionare dall'ingaggio che è alto piuttosto poi prenderò un secondo più umile e che magari sia contenti di un ingaggio più basso Strinic lista trasferimenti Rodriguez ragazzi Rodriguez eh qui sono indeciso devo essere sincero molti gli aspettavano lista trasferimenti invece no tempo legge perché sapete tutta la storia mi ha bloccato su Instagram poi mi ha sbloccato ci siamo incontrati e quindi dopo quell'incontro che è stato molto bello devo essere sincero lo lascio in squadra Teo Hernandez ovviamente rimane Bellodi è in prestito che saluto peraltro che mi segue su Instagram Musacchio via subito ragazzi lista trasferimenti per lui Davidino Calabria non mi piace non mi piace ragazzi lista trasferimenti basta ho deciso biglia via subito lista trasferimenti Luxalt perché c'è ancora Luxalt ti fanno aggiornare le rose e poi in realtà non cambia nulla buona avventura rimane benasera rimane che sì carissimo alla prossima Conti rimane cioè volevo tenere uno tra Conti e Calabria da lasciare in panchina e quindi preferisco avere Conti Calabria via Castiglieco mi dispiace Miss Italia per te finisce qui Cialanoglu mi dispiace ma per te proprio il calcio finisce qui Borini non capisco come tu sia in questo mondo comunque finisce anche per te qui Suso non lo so dipende vorrei far cassa con Suso vediamo un attimino come vanno le cose vediamo Alilovic è in prestito ma io lo vorrei dar via quindi facciamo una cosa lo richiamo e lo metto nella lista trasferimenti Piontek sapete che sono veramente indeciso su Piontek per adesso lo lascio però voglio capire se riesco a prendere qualcuno lì in avanti perché mi sta deludendo talmente tanto in questo avvio di stagione che non lo so vediamo vediamo Leo rimane Silva via Silva subito via anche qui non si capisce ah no non c'è Rebic cazzo comunque non capirò mai come faccia un gioco così importante a non avere le rose aggiornate non lo so ragazzi mi raccomando quest'anno come non mai dovete essere presenti anche e soprattutto con i commenti perché voi siete i miei secondi allenatori chi ha seguito le altre carriere sa perfettamente che io leggo tutti i commenti innanzitutto e soprattutto ne metto in pratica tanti mi fido molto di voi sia per quanto riguarda impostazioni varie da modificare sia per quanto riguarda l'assetto della squadra anche qui voglio un vostro parere per capire come giocare e anche e soprattutto per quanto riguarda gli acquisti mi raccomando quindi siate generosi con i commenti morale della rosa un po' così perché giustamente sto sfanculando tutti e c'è un po' un terremoto nel mio spogliatoio in questo momento avanziamo mio budget trasferimenti ammonta 51 milioni conto di arrivare almeno sui 100 120 milioni con tutte le cessioni ma anche di più c'è la chat col giocatore sono giustamente tutti preoccupati perché li mando via capitano dice hanno venuto alla squadra benvenuto grazie grazie mille dico c'è parecchio da fare lo metto subito in guardia vabbè non mi va di rispondere a tutti ragazzi andiamo a farci questa prima partita anche per testare un po' sia il gioco e sia alcuni calciatori allora io metto Jack Buonaventura fuori suso dentro Leao come seconda punta qui sulla destra preferisco avere Conti e sulla sinistra preferisco avere Teo Hernandez ah 76 addirittura è più scarso di Rodriguez nel gioco bene però lo allenerò perché voi mi insegnate che i giocatori vanno allenati dunque pensavo ragazzi che questi giochi sono belli perché uno riesce a sfogare la propria frustrazione ad esempio in questo periodo c'è la morte con Cialanoglu e almeno nel gioco c'è la soddisfazione di sbatterlo in panchina che dà una libidine e una goduria incredibile vabbè ragazzi io giocherei così dai ah no altro cambio fuori Musacchio dentro Caldara Musacchio non ti voglio vedere a proposito di sfogare le frustrazioni ok quindi leggenda 5 minuti pioggia ecco iniziamo bene inizio di carriera bagnato inizio di carriera fortunato chi lo sa vedremo Milan Porto la prima partita di questa European Cup l'attesa è finita si comincia giusto per mettere un po' le mani avanti vi ricordo che questa è la mia prima partita qui su FIFA subito il porto in avanti bel fraseggio non riesco a chiudere ho difficoltà a chiudere ragazzi porca vacca palo il culo di Brogna è tornato ma poi svanisce in un attimo gol del Porto 1 a 0 mi sembra un po' più difficile marcare ragazzi non so spiegare no 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 chi è cagata di Donnarumma esce in modo tragico beh non male come inizio stagione ragazzi dai guarda qua guarda qua lui lasciato libero poi il rimpallo favorevole Donnarumma che esce così scordinato no dicevo ho un po' di difficoltà con le marcature non so perché non riesco a a pressare a cioè non so neanche spiegarmi non intendo quando fai le scivolate quelle ok si fanno ma intendo quel pressing asfissiante che di solito si riusciva a fare intanto bella ma perché c'è nessun in area Leao dove sei cross dai almeno ci siamo siamo vivi in qualche modo la palla per Conti il cross di Conti sul secondo la madonna Conti dove tiri scappa via Diaz porco Diaz attenzione Caldaro dovrebbe chiudere solo eccolo qua eccolo qua eccolo qua ragazzi che inizio traumatico mi sa che leggendo un po' troppo per me male male malissimo ragazzi un like di incoraggiamento siamo 3 a 0 al trentesimo visto passo al novantesimo saremo 9 a 0 azione reggbistica di Brogna poi buonaventura allarga per te Bernaldez ancora teo bella questa bella questa porca vacca quando attaccano loro ragazzi mi cago in mano perché non so difendere su FIFA 20 non so difendere non che su FIFA 19 fossi tutta sta fortezza però almeno eccolo qua eccolo qua eccolo qua mamma mia mamma mia qualche certo ragazzi che leggenda è troppo per me lo dico lo ribadisco lo sottoscrivo ne vedremo delle brutte quest'anno ragazzi almeno sono coerente col Milan attuale che scoppola che scoppola ragazzi facciamo una cosa torniamo al 4-3-3 magari giocare un po' più largo lì in avanti mi aiuta ok fuori Buonaventura dentro Suso per il resto lasciamo tutto così ora al di là del risultato per me sarebbe anche guarda perché corro nel quadruplo rispetto a me no vabbè ma che gol è questo ragazzi ma che gol è questo ragazzi ma come si è buttato dalla Roma cioè era lentissima questa palla colpita di testa guardate ma perché si è buttato tre ore prima dalla Roma cioè umiliazione totale totale mamma mia non vedo l'ora che finisca sta partita è un incubo leao Piontek Piontek se ne va magistralmente Piontek il giro Piontek è già qua pa pa parara Piontek è già qua pa pa parara Piontek è già qua pa pa parara ragazzi lo so c'è poco da festeggiare però almeno un gol un gol guardate qua però come se n'è andata alla grande ma non so neanche io come ho fatto devo essere sincero eh non so come ho fatto però il gol c'è sotto porte è stato anche cinico ecco almeno quello ci teneva a fare un gol soprattutto per voi e non tanto per me Piontek Piontek larga per Suso ancora Suso che se ne va in aria non c'è nessuno Suso la butta comunque al centro autogol 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 saluto gli autogol peraltro li ringrazio per questo autogol beh ragazzi stiamo dando un po' di dignità a questa partita 5 a 2 è sempre tragico però fa un po' meno male rispetto al 5 a 0 tondo tondo di certo ragazzi non potete dire di non aver visto gol in questa prima partita bella questa azione bella per partenza Leao da Fernandez lunga per Leao è buona dai Leao dai Leao dai Leao prova questo tiro nulla da fare un po' acerbo Leao nel gioco Paquetà Suso ho il giro ho ancora un altro tiro no ancora Paquetà ancora Suso ancora che si finisce qui finisce qui ragazzi 5 a 2 finale di partita con quelle 3-4 azioni mi ha un po' rincuorato è logico ragazzi che devo cambiare devo passare a campione assolutamente anche perché giocavo contro il Porto non contro il Barcellona cambio subito ragazzi altrimenti me ne dimentico faccio campione passo anche a 4 minuti più che 5.70 eccola qua l'offerta per Calabria da 16 milioni e 9 da parte del West Ham io come sapete ragazzi tratto tutto location di lusso per questa trattativa clamorosa sondo un po' il terreno per vedere i limiti di sopportazione quando alzi l'offerta quant'è quest'anno perché lo scorso anno veramente erano permalosi quest'anno non lo so vediamo ok contro offerta la clausola non mi interessa assolutamente nulla e direi un 20 milioni tondi tondi ok ragazzi hanno accettato 20 milioni tondi cash immediato per Davidino Calabria conti invece ragazzi rifiutiamo l'offerta del L'Eintracht Frankfurt notizia esordio quasi perfetto ma dove quando ho perso 5 a 2 e quale quasi perfetto simuliamo ragazzi questa seconda partita tanto sono tutte amichevoli si sta coppa internazionale europea non me ne prega nulla tanto è probabile che non giocando faccio meglio ecco ho vinto 2 a 1 gol di Paquetà e Piontek per l'Arsenal gol di Pepe avanziamo ancora un po' vediamo se arriverà qualche offerta per i miei giocatori 18 milioni e 2 per Riccardo Rodriguez il Paris Saint Germain ci prova ragazzi hai capito Rodriguez trattiamo ragazzi e rinegoziamo e dico 25 come sempre non vi arrabbiate se l'offerta è troppo alta io sarei disposto anche ad abbassare fino a 20 euro basta parlarne è la nostra ultima offerta 18 milioni e 2 più il 7% allora contro offerta rimuovo la clausola rinegoziamo il cartellino anche qui ragazzi a sto punto 20 tondi tondi anzi 22 dai cazzo 22 siete pieni di soldi ragazzi ma di che cazzo stiamo parlando poi a Riccardo Rodriguez eh mica il primo pirletta ok ragazzi affare fatto 22 milioni di euro lo so ragazzi quando ho fatto l'elenco dei giocatori quando sono arrivato a Riccardo Rodriguez ho detto vabbè valuto forse lo tengo però 22 milioni di euro vuoi veramente non dare Rodriguez per 22 milioni di euro sì e infatti è andato via simuliamo anche questa partita perché voglio fare un po' più di manovra di mercato in questo primo episodio tanto i ragazzi senza di me faranno meglio vabbè uno a uno ci sta offerta per Fabio Borini ragazzi anche per Castiglieco sono felicissimo di questa offerta avevo paura che mi rimanessero in squadra invece no uh addirittura da 23 milioni molti di voi stavano pensando sì Dani ma cosa cavolo vai a trattare ogni volta eh però ragazzi fidatevi che quei milioncini in più che riesce a tirar su poi torneranno sempre utili è un'artura di palle ovviamente ogni volta però ne vale la pena 27 milioni e la finiamo qui ma proprio in amicizia senza neanche star lì a contrattare ok questa cifra superiore 24 e 6 sì vabbè ora secondo te rinuncia a 400 mila euro per non vedere la cifra tonda ma assolutamente no dammi 25 anzi 26 dai 26 26 e 5 tu dai che sei pieno di soldi Lampard dai ok ragazzi hanno accettato 26 e 5 per Castiglieco e scusi un croissant niente ragazzi cercavo di spilucchiare qualcosa ma qui chiederò semplicemente 11 milioni vediamo dai 11 milioni ci sta ragazzi Borini ancora 28 anni ha grandi margini di miglioramento l'ultima offerta 9 milioni ma guardate come sottaccagni questi no facciamo 10 ragazzi dai 9 milioni è inguardabile è inguardabile ok ragazzi hanno accettato i 10 milioni di euro per Borini anche lui va via da Milan e ragazzi ve l'ho detto c'era una strage in vista e così è offerta anche per Lucas Biglia anche qui ragazzi chiederò 10 milioni di euro tondi trattiamo direttamente con Klopp caro Klopp hai vinto la Champions League non mi dire ora che non c'hai 10 milioni di euro da darmi subito così ce le avrai in tasca sicuro eccolo qua lo sapevo bravo bravo Klopp dammi sti soldi dammeli sì ciccio i soldi no non mi darei pacche sul culo dammi i soldi praticamente abbiamo dimezzato la rosa in 24 ore interessamento anche per a Can Chalanoglu quanti soldi 17,5 e l'Inter vuole Jack Bonaventura per 21 milioni no Jack non te lo do cara Inter rifiuto assolutamente l'offerta mentre Cialanoglu andiamo subito a trattare direi 25 cioè li vale 25 milioni per me no però dico per il gioco magari si secondo me si incazza si è incazzato ragazzi la prima incazza like per la prima incazzatura su FIFA 20 la faccio sempre io il primo rinforzo lo voglio a centro campo e vorrei prendere lui proprio lui eh sì lui Luca Modric allora costo 45 milioni di euro è lo stipendio che mi fa paura ragazzi 340 mila è una settimana no non voglio pagare la clausola vale 45 milioni e io ho ottenuto 50 così giusto per iniziare ma come siamo soddisfatti ma così cioè volevano proprio liberarsene ma lei che è rotto ma ci sono rimasto male che mi ha accettato subito ragazzi oh caro Luca buongiorno buongiorno prego si accomodi sedie nuove appena presi dall'IKEA allora grazie a te innanzitutto per essere venuto qui Modric non mi sembra tanto convinto iniziamo ruolo cruciale a ciminchia direi assolutamente sì contratto a 33 anni direi 3 anni ci sta fino ai 36 te la senti ok l'ingaggio lo fa fare a me porca racca allora attualmente guadagno a 350 allora io mi rifaccio allo stipendio attuale ragazzi 230 invece di 340 si incazza tanto andrà via perché io non riesco neanche a pareggiarlo lo stipendio attuale ragazzi ho fatto lo splendido offrire i soldi per il cartellino e poi avanziamo l'offerta vediamo hanno accettato ma è un'ottima offerta perché cioè quando accettano subito ti rimane quella cosa lì che dici cazzo mi hanno inculato ma ho speso tanto ragazzi fatemelo sapere con un commento però lo volevo volevo modrici ragazzi per adesso ragazzi questa questa è la mia formazione è ancora da migliorare tanto ragazzi allora questo episodio finisce qui ditemi voi chi comprare datemi qualche consiglio qualche suggestione come vi dicevo prima consigliatemi tanti giocatori da prendere questo episodio finisce qui ci vediamo venerdì per il secondo episodio della mia nuova carriera da allenatore qui su FIFA 20 ciao grazie a tutti